Il nome del padre e del figlio dello Spirito Santo Il Signore sia con me Se Dio si è fatto uomo prendendo parte a una vicenda qualsiasi Allora la storia di ogni uomo può essere la storia di Dio Anche la tua La nostra non era una conversazione La riservatezza per la Chiesa è sacra Ognuno ha i suoi segreti Ognuno ha i suoi segreti Ognuno ha i suoi segreti Ognuno ha i suoi segreti